Ieri abbiamo fatto una bella riunione con tutti i responsabili dei procedimenti del programma integrato alla città sostenibile perché i prossimi due o tre mesi saranno quelli della consegna definitiva alla città di questi interventi e sono veramente molto contento perché abbiamo fatto degli interventi tra il momento in cui li avevamo immaginati nella nostra testa, a vederli oggi realizzati veramente una grande soddisfazione. L'altro giorno mi ha chiesto un cittadino, sindaco, ma li vediamo continuamente, tante aggressioni che riceve, ma chi lo fa fare a un sindaco? Ecco questa è la risposta, lo fa fare a un sindaco che è appassionato di politica, innamorato della propria città, il fatto di poter vedere un'idea di trasformazione di un pezzo di città e poi di realizzarla. E' questa la ragione fondamentale per cui ci si impegna nell'amministrazione della propria città. E allora l'altro giorno sono andato a vedere lo stato dell'arte dei lavori a San Pietro, dove abbiamo sostituito e eliminato i due campi prefabbricati, San Pietro 1 e San Pietro 2 e realizzato un intervento bellissimo di riqualificazione urbana, intorno al quale, e invito già tutti i cittadini che mi stanno ascoltando ad andarsi a fare una passeggiata per andare a vedere, perché già è praticamente completato il lavoro, una riqualificazione urbana che potrà dare nuova centralità e nuova identità a una frazione molto bella e molto importante che è quella di San Pietro. Quell'area che abbiamo destinato a questo intervento, rispetto sulla quale c'erano i prefabbricati, ereditate il terremoto degli anni Ottanta, è un'area che nella storia e nella tradizione di San Pietro era l'area dei genovesi, di questa grande famiglia, Palazzo Genovese c'era là e mi raccontava ieri Salvatore Milano, uno storico e studioso molto bravo della nostra città, che già all'epoca negli anni Sessanta e Settanta furono fatti in quest'area verde con filari di alberi molto belli, dei veri e propri scempi, un vero e proprio scempio edilizio. Dopo lo scempio edilizio i prefabbricati, oggi con la nostra amministrazione ridiamo, diciamo così, nel solco di una storia importante di quell'area, una nuova veste al servizio della città. Poi sono andato a Settanta Lucia, anche lì dove c'erano i campi prefabbricati abbiamo finito, abbiamo praticamente finito, un lavoro eccezionale, ho visto, diciamo, ci sono andato e i cittadini sono molto contenti di quello che abbiamo realizzato, peraltro lì abbiamo, mentre a San Pietro abbiamo costruito un'area per lo sport all'aperto ed un campo di bocce ulteriore vicino al campo sportivo e questa bella passeggiata nel verde, a Settanta Lucia abbiamo fatto anche un parco inclusivo per consentire il gioco anche a bambini che hanno una qualche difficoltà, hanno una qualche disabilità e di questo sono molto, molto orgoglioso. E anche lì c'è un'area per lo sport all'aperto, oltre ovviamente tutta una serie di cose, anche qui invito non soltanto i cittadini di Santa Lucia, ma tutti i cittadini cavesi ad andare a vedere. È pronta praticamente. Così come inaugureremo a stretto giro, lì dobbiamo vedere come la gestiamo, l'Oasi di Dieci Mare. L'Oasi di Dieci Mare dovrà essere il luogo intorno al quale si restituisce una nuova identità ad una frazione bellissima che io amo molto, che è la nostra Sant'Anna. L'Oasi di Dieci Mare dovrà stimolare le passeggiate nel verde in una frazione nella quale Sant'Anna c'è il prodotto tipico, si fanno alcuni prodotti particolari che vengono in miele e altre cose di cui quella frazione si caratterizza e poi ovviamente un po' di agriturismo, dei B&B intorno al progetto dell'Oasi di Dieci Mare che io mi auguro possa diventare un giorno con una legge regionale ad hoc il parco di Dieci Mare. Anche qui invito i cittadini ad andare a vedere, così come invito tutti quanti ad andare a vedere quello che stiamo facendo sul nostro castello, ci vorrà qualche settimana in più, ma è veramente una cosa meravigliosa che abbiamo fatto e che consegniamo veramente questa alla storia di Cava dei Tirreni. E così come pure a San Martino, l'eremo di San Martino, sta venendo un capolavoro, lì faremo un lavoro con la parrocchia, con la chiesa, ne parlerò con il nostro Vescovo per fare un progetto di gestione integrato, trattandosi sostanzialmente l'eremo di San Martino, di un luogo religioso, ma che noi vorremmo far vivere anche per tutta la comunità di San Martino, ma non solo, immaginando dei concerti di musica classica, dobbiamo anche lì immaginare un momento di gestione insieme. Veramente tante opere importanti per Cava, poi ovviamente c'è l'opera che a mio avviso è stata quella più discussa, ma alla fine sarà quella più apprezzata, che anche rientra nel programma integrato della città sostenibile, che è il Parco Urbano, che ormai è pronto, già visibile, apriamo questi primi due terzi del Parco Urbano nei prossimi giorni, anche per consentire l'attraversamento da un pezzo all'altro della Statale 18, perché i cittadini che devono fare tutto un giro li vogliamo sollevare da questo sacrificio che hanno fatto, ma per un'opera veramente molto importante. Insomma, per non dire poi del Museo della ceramica mediterranea contemporanea, domani mattina, sabato 3 febbraio, riceverò la visita graditissima del sindaco di Faenza, Faenza è una grande città di tradizione ceramica, ha sentito parlare del nostro museo, ma ha chiamato che lo vuole venire a vedere. È una cosa di livello internazionale, fatta di grandissima qualità, anche qui dovremmo cercare di valorizzare al massimo questo messaggio che abbiamo costruito. Insomma, per quanto riguarda il programma integrato alla città sostenibile, siamo ormai alle battute finali per consegnare tutto questo alla vita della città. Per quanto riguarda Piazza San Francesco, i lavori stanno andando molto bene, so benissimo che questo lavoro sta comportando qualche sacrificio per quei posti auto che si sono inevitabilmente perduti temporaneamente, ma noi quando avremo completato il lavoro, mi auguro più presto possibile, noi avremo potenzialmente quasi raddoppiato i posti auto, se va in porto un'operazione che ci consentirà di avere 60 posti auto in più interrati, non anticipo molto, dico soltanto che la settimana prossima per consentire questo tipo di investimento in Piazza San Francesco avrò un appuntamento a Roma per chiedere l'autorizzazione all'utilizzo di ulteriori risorse per questo obiettivo nell'interesse della città. Via 5 è un mese di lavoro ancora e chiudiamo, lì è stato proprio un calvario perché ci sono stati problemi con la ditta, l'impresa è andata in amministrazione controllata perché si è sospettato potesse avere uno dei rappresentanti, non ho capito bene chi, dei collegamenti di carattere che hanno generato l'attenzione della Prefettura, si è perso del tempo, i lavori sono andati avanti, comunque si sta procedendo e mi dicevano i tecnici ieri che entro un mese di lavoro poi potremo riaprire finalmente via 5 in sicurezza, abbiamo messo in sicurezza tutto quel costone che stava cedendo. Voglio dire da questo punto di vista che molti apprezzamenti sta avendo il lavoro che stiamo facendo alla discesa dei Cappuccini, lì ci sono i Basoli, i Sampietini piccoli, stanno facendo veramente, anche qui una ditta molto molto brava sta facendo un lavoro puntuale e lì c'erano proprio degli avallamenti e quindi abbiamo fatto anche via Tenolfi perché pure era messa male, così come abbiamo fatto il viale Garibaldi con la sistemazione delle mattonelle eccetera. E poi l'altra mattina, questo è un lavoro che sta facendo la provincia, sono andato a Rotolo, lavoro complicatissimo, anche lì si lavora in un pallone, ma mi pare che dopo tanta attesa c'è una svolta nei lavori di Rotolo. Sono cominciati anche i lavori della Simonetta Lamberti a Pregiato, so che la comunità di Pregiato aspetta fondamentalmente due cose, aspettava la restituzione della scuola alla comunità e ovviamente la messa in sicurezza di quel complesso storico che da tanto tempo corre il rischio, l'asilo pastore mi riferisco a corre il rischio di caderci addosso lì. Porteremo in Consiglio Comunale una piccolissima variante urbanistica che ci consentirà di mettere in sicurezza e di fare un intervento importante anche sull'asilo pastore. Pregiato nel corso di questi anni è stata un po' trascurata ma con questi due interventi importanti e cioè quello della scuola, che i lavori sono già cominciati e stiamo cercando risorsi anche per la palestra e con la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'asilo pastore, anche lì avremo lasciato un segnale importante per una frazione a cui tengo molto. Nell'ecseca, cioè nel portone del carcere, noi abbiamo il museo di Mamma Lucia, il museo della ceramica mediterranea contemporanea e il teatro che è partito. Quando entrammo lì per la prima volta non c'era niente, così come non c'era niente neanche a San Giovanni e c'era soltanto la palestra decadente di Piazzetta Parisi. Oggi è un luogo di grande vitalità e c'è anche la sede nella quale abbiamo una copia della pergamena bianca, per cui quando avremo completato quello che chiameremo Palazzo della Cultura Tommaso Avagliano, chi entrerà lì avrà una serie di cose, il presepe, l'associazione, il museo, due musei, quello di Mamma Lucia e quello della ceramica ed il teatro di fronte. In più c'è quella corte nella quale si può immaginare un baretto, qualche cosa, qualche concerto in modo da restituire, a proposito di svendita di tutto, qui stiamo restituendo invece alla città una cosa importante. Io penso che con la piscina comunale abbiamo fatto un sacrificio, ma questo tempo è servito per realizzare un intervento molto bello e oggi diciamo fine febbraio i lavori sono finiti, già l'ufficio sta predisponendo il bando per trovare un gestore che metterà in funzione la piscina, perché ovviamente è un'attività che noi dobbiamo chiedere ad un operatore di carattere professionale, sperando che l'esperienza un po' negativa che abbiamo fatto in tanti anni con il gestore precedente possa essere un'esperienza più proficua e più importante per la città. Però la piscina ci tengono tanti e quindi è un fiore all'occhiello di cava dei treni e ormai ci siamo e pronta. Chi vuole andare a vedere, non so se si può entrare, è ancora un cantiere ma vedrà il capolavoro che è stato fatto lì. Quello che dobbiamo sistemare sono un po' le aree esterne che sono un po' abbandonate, ma io credo che per luglio la piscina potrebbe entrare in operatività, al massimo per il prossimo settembre.